un saluto a tutti eccoci ancora insieme per un nuovo tutorial oggi andremo a scoprire come inserire un effetto particolare in un titolo abbiamo qui la nostra clip il nostro breve filmatino e andiamo a scrivere ad esempio il nome di gino edino su questo breve filmato allora per farlo in maniera un pochettino diversa dal solito possiamo dare una colorazione o quantomeno dare un materiale se così si può dire al titolo andiamo a prendere ad esempio una foto di un marmo e andiamo a prendere un titolo che andremo a inserire proprio sul filmato di gino e dino possiamo andare a prendere questo semplicissimo basic title in questo basic title andiamo e in text andiamo a scrivere gino e dino fatto questo decidiamo che deve essere più grande questo modo andiamo anche cambiare il tipo di carattere possiamo andare a scegliere questo obo standard eccolo qua a questo punto se andiamo su video in compositing blend mode andiamo a scegliere stencil alfa ed ecco qua l'effetto marmo sotto anzi insomma diciamo la scritta gino e dino a questo effetto ecco detto questo possiamo andare anche a cambiare il tipo di di pietra di pietra qui abbiamo il marmo però insomma potrebbe per noi non essere soddisfacente quindi andiamo in generator anziché marmo andiamo a scegliere i sassi del fiume ecco questo potrebbe essere ma si vede malissimo oltre a vertino ecco questo già è più particolare oppure insomma un altro tipo ecco possiamo anche andare a cambiare la tinta ecco possiamo anche andare a cambiare la tinta e ad esempio ci diamo questo colore in questo modo tint amount andiamo a diversificare il colore torniamo al marmo un po strano un po' strano un po' particolare possiamo anche tentare di trovare una diciamo una collocazione del titolo leggermente diversa qui la tinta è un po' troppo torniamo sul titolo e magari lo spostiamo in un punto dove ci piace un po' di più dove l'effetto ci piace un po' di più e adiziamo così possiamo andare anche a scegliere altri altri effetti ad esempio questo natural e andiamo a postare al posto a fare un replace eccolo qua tagliamola ecco vedete che ecco vedete che lo possiamo spostare lo possiamo spostare e scegliere un punto diverso anche qui volendo andiamo a scegliere la tinta e a cambiare la tinta di questo effetto oppure andiamo a scegliere proprio non so diversifichiamo completamente il sottofondo cioè il fondo cioè il fondo abbiamo dell'erba potrebbe anche essere la nostra scelta definitiva detto questo una volta che abbiamo scelto mettiamo questa questa scritta gino e dino con l'erba di sottofondo andiamo a selezionare il testo e l'immagine facciamo un bel new compound clip andiamo a fare un filmato un clip composito e lo andiamo a spostare direttamente sull'immagine che ci interessa andiamo ad accorciare per questo punto vedete che sopra la nostra clip compare il titolo gino e dino in realtà questo è dino e questo è gino possiamo andare a spostare dove vogliamo noi il titolo e proprio perché abbiamo fatto un compound clip abbiamo fatto un clip composito possiamo anche andare a dare un effetto in che modo? tasto destro apriamo la finestra e andiamo a scegliere show video animation ecco qua che andiamo a scegliere compositing opacity e gli diamo un effetto di sfumata in entrata e in uscita chiudiamo video animation ed ecco che vedete entra ed esce con un effetto diciamo sfumatura aspettiamo che renderizzi terminato vediamo l'effetto ecco è quello che volevamo creare lo abbiamo creato ovviamente le possibilità possono essere tantissime possiamo mettere sottofondo anche una nostra foto una nostra immagine e addirittura un nostro filmato volendo spero di essere stato chiaro quest'oggi in questo diciamo tutorial che riguardava l'inserimento di un effetto nel titolo come sempre vi ricordo che se volete potete chiedere tutorial particolari informazioni direttamente qui su youtube grazie a tutti un saluto e un saluto un saluto un saluto di un saluto di un saluto di un saluto di un saluto